Come si calcola lo stipendio netto? Bene amici, benvenuti in un nuovo video. Per chi non mi conosce, forse è la prima volta che atterra sul mio canale, io mi chiamo Massimo e in questo canale parliamo di business online e di tecnologia. Vi invito quindi, nel caso non lo foste ancora, ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina per notifiche, mettere un bel like e commentate così mi aiutate, diciamo, mi date un po' di supporto a crescere con YouTube. Quindi accortarvi sempre più contenuti, iscrivetevi così rimanete sempre aggiornati ogni volta che esce un nuovo video sul business, la tecnologia, guadagnare online, insomma, tutte queste cose. Lasciamo perdere la sigla e andiamo subito al fulcro dell'argomento. Come si calcola lo stipendio netto? Visto che in questo canale parliamo di business online e molti di voi, comunque magari, hanno un lavoro dipendente o stanno cercando un lavoro dipendente ma vogliono fare anche business online e si ritrovano magari a sfogliare online gli annunci di lavoro tipo su Indead, piuttosto che su Subito.it, piuttosto che su Infojobs o tantissimi altri portali anche di agenzie interinali. Vi ritrovate dal... un attimino in difficoltà perché trovate, a parte che è uscita la normativa, che adesso tutte le offerte di lavoro devono indicare la paga e il datore di lavoro comunque non può più chiedere a quanto ammontava la retribuzione precedente o il livello. Quindi, il livello non lo so, la retribuzione non ve la può più chiedere, però magari vi dicono, ok, guarda, ti vogliamo assumere per fare questo lavoro e ti dicono la RAL, che è il reddito annuale lordo, sarà di, che ne so, 30.000 euro. Tu dici, micchia, 30.000 euro in un anno, cavolo, tanta roba. Ma poi alla fine in busta paga, al netto, quanto ti entra? Vuoi sapere come calcolarlo? Beh, io ho una soluzione ancora migliore. Ti lascio in descrizione e nei commenti il link che rimanda a un foglio di Excel che tu lo puoi usare anche direttamente sui fogli Google oppure lo puoi scaricare che ti permette di fare il calcolo automaticamente dello stipendio netto inserendo i dati. Ci sono delle caselline in giallo da compilare che sono già precompilate, puoi sostituire i dati in caso cambiasse regione, quindi l'addizionale regionale, comunale, l'importo IMS. Ma comunque già impostato così ti dà un'idea di quanto è lo stipendio netto. E ora ti faccio vedere. Allora andiamo, intanto minimizzo qui. Ok, questo è il foglio che vi ho condiviso, ok? Qui basta mettere nella casellina gialla il reddito mensile lord. Mettiamo che ti dicono appunto 30.000 euro. Bisogna poi mettere l'aliquota IMS, che di solito comunque è questa. L'addizionale regionale e comunale, ma può cambiarvi di pochino. E quante mensilità? Per esempio, se siete assunti con un contratto del commercio che avete quindi 14 mensilità, questo è lo stipendio netto mensile che andate a percepire con 30.000 euro. Quindi voi capite bene che se noi andiamo a fare un colteggio di 1.476 euro per 12 mesi, sono questi i soldi, più diciamo altri 2.000. No, scusato, ho sbagliato. Ok, più 2.000. Ok. Su 30.000 lo Stato se ne mangia 11.000 a voi, più quelli che lo Stato mangia al datore di lavoro che deve versarvi. Considerate che se voi prendete 1.500 euro ne costate più del doppio al vostro datore di lavoro. Quindi, morale della favola, vi ho svelato come calcolare lo stipendio netto. Quindi fate attenzione, perché a volte trovate lavori dove c'è scritto magari 23.000 come RAL. Ok? Ragazzi, andate a prendere 1.100 euro. Qua siamo alle soglie della fame nel 2023 e sotto la soglia di povertà uno stipendio del genere, ahimè. E purtroppo ci sono stipendi anche più bassi. Purtroppo è un po' colpa sia dei datori di lavoro e delle leggi che non tutelano i lavoratori, così come anche l'inquadramento che le aziende danno ai dipendenti. Cioè se un dipendente è assunto con una mansione magari particolare o da responsabile o con una determinata mansione comunque e magari è assunto con un livello sbagliato. Se tu sei un responsabile non puoi avere un quarto livello, no? Quindi tutte queste cose, insomma, le aziende ci giocano un po'. Quindi fatevi rispettare e, consiglio mio, fatevi un attimino i conti in tasca, ok? Quindi usate pure questo calcolatore per calcolarvi lo stipendio netto da un reddito annuale lordo di modo che sapete già cosa andate a parare e vi potete regolare anche in base agli annunci di lavoro dove c'è scritta la paga, il RAL, ok? Che sarebbe la paga lorda annuale. Niente ragazzi, per questo piccolo video è tutto. Io vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanina per le notifiche, mettere un bel like così mi supportate e commentate. A voi non costa nulla ma mi date davvero una grossa mano a crescere con l'algoritmo di YouTube e quindi apportarvi sempre più contenuti che vi possano interessare sul business online, la tecnologia e quant'altro. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!